Anche quest'anno operatori di settore appassionati si sono dati appuntamento a mercante in fiera. Concreto il rischio che tra i tanti pezzi autentici venga piazzato qualche falso d'autore in grado di trarre in inganno anche i più esperti collezionisti. Proprio partendo dai controlli agli stand i finanzieri del comando provinciale di Parma sono riusciti a risalire all'intera filiera arrivando direttamente ad un laboratorio nel milanese dove venivano realizzati pezzi contraffatti. Oltre 12.000 gli articoli sequestrati tra tavolini, vassoi, lampade, quadri e stampe. Valore complessivo 800.000 euro tutti attribuiti al laboratorio di Piero Fornasetti uno dei più creativi e noti designer italiani del novecento scomparso nel 1988. Non doveva essere poi così difficile per il falsario un 58enne riprodurre fedelmente le opere dell'artista considerato che in noventù aveva preso i rudimenti del mestiere lavorando proprio nella bottega di Fornasetti. Riproduzioni fedelissime anche perché alcuni dei timbri e delle matrici sequestrate dalle fiamme gialle sono con buona probabilità autentici sottratti anni addietro nel laboratorio. Gli eredi ne avevano ormai perdute le tracce. Tratto in inganno anche il perito intervenuto a confermare la falsità delle opere. Davanti ad un lume ritenuto autentico è stato addirittura lo stesso falsario a rivendicarne la paternità. Per il falso Fornasetti è scattata la denuncia per contraffazione e violazione della legge sul diritto d'autore. I due espositori invece rischiano di dover rispondere anche del più grave reato di ricettazione. Obiettivo della guardia di finanza confermato in questa circostanza rimane quello di ricostruire l'intera filiera per impedire che la merce falsa venga immessa in commercio. In questo modo si mira a tutelare gli operatori onesti che sono la gran parte salvaguardando il buon funzionamento del mercato e nello stesso tempo i consumatori che in buona fede acquistano i prodotti confidando nella loro autenticità. Grazie a tutti.